Un piacere introdurre il professor Marco Andreatta, professore ordinario di geometria presso l'Università degli Studi di Trento. È uno studioso di fama internazionale nel campo della geometria algebrica. È autore di oltre 50 pubblicazioni sulle migliori riviste del settore e di numerosissime comunicazioni a convegni internazionali. È stato professore all'Università Statale di Milano, visiting professor in molti centri di ricerca internazionali, tra i quali il Mathematical Science Research Institute di Berkeley, il Max Planck Institute di Bonn e il Newton Institute for Mathematics di Cambridge. Qui abbiamo una classe dello scientifico che segue il percorso di studi Cambridge, quindi è un'occasione anche per gettare un ponte con il mondo internazionale. È direttore del Centro Internazionale per la Ricerca Matematica, CIRM, della Fondazione Bruno Kessler, direttore dell'Unità di Ricerca Locale dell'Istituto Nazionale di Alta Matematica, INDAM. È stato preside della Facoltà di Scienze di Trento e tra le sue attività notevoli di divulgatore, ricordiamo anche che è presidente del Museo della Scienza e della Matematica che si trova a Trento. Anche questa è una meta per gli studenti che vogliono approfondire il mondo della ricerca scientifica. Io lo saluterei con un applauso ringraziandolo per essere a Foligno. Grazie a voi, grazie dell'invito a parlare a questa bellissima conferenza. Ieri ho fatto una conferenza per il pubblico generico, oggi mi hanno detto che era una conferenza per la scuola, per le scuole, quindi sono due argomenti diversi. Lasciatemi solo fare un po' di... Ringrazio il presentatore, il professore che mi ha presentato, mamma mia un po' altisonante, ma insomma sì, sono un geometra algebrico, mi occupo di geometria, sono un professore di geometria e le cose che faccio sono, diciamo, una ricerca, come dire, un po' di nicchia nella geometria. Non siamo in tanti nel mondo che hanno la fortuna anche di fare questo mestiere, insomma, e per farlo quindi bisogna un po' girare, ecco, quindi ho girato un po' di istituti e proprio per le necessità di collaborare con persone. E nell'ultimo anno mi sono dedicato a una impresa nuova per me, che non sono un grande... non ho mai fatto molta divulgazione, se non qualche conferenza, qui è la terza volta che vengo a Foligno, e ho scritto un libro, pubblicizzo, che è uscito qualche settimana fa, e c'è anche fuori, nell'Atrio, La forma delle cose, è un libro per il mulino, ed è un saggio sulla... la forma delle cose è l'alfabeto della geometria, è un saggio. Il mulino mi ha chiesto di fare una cosa divulgativa, quindi per tutti, però di scrivere un po' di geometria, davvero, insomma, non raccontare solo aneddoti. E in effetti la cosa un po' più difficile era bisognava usare meno formule possibili, in matematica, sapete, in divulgazione bisogna usare meno formule possibili. Io ci ho provato, però qualche formula l'ho messa dentro, e ho provato a dimostrarle, queste formule, in maniera, diciamo, per me più semplice possibile, e spero, insomma, che sia un'operazione che sia gradita, e se qualcuno di voi ha voglia di prenderlo, e se ha dei suggerimenti da mandarmi, ben volentieri. Questa conferenza, come anche quella di ieri, quella di ieri era proprio sul libro, quindi oggi, diciamo, parlo un po' di un'altra cosa, e la trovate sulla mia pagina web, comunque poi mi pare anche che vengano filmate, comunque sotto Marco Andreata trovate un po' di conferenze che faccio di tipo divulgativo. L'idea di curva e superficie, dalla stazione matematica alla realizzazione fisica. Vi racconto un po' cosa voglio fare prima, appunto, come ha detto il professore, io, è otto anni che faccio il presidente del Museo di Scienze di Trento, è un'esperienza bellissima che mi è capitata, un po' per caso, diciamo, quando hanno, sapete, un nuovo museo disegnato da Renzo Piano, che è stato inaugurato sei anni fa, quindi io ho stato nominato due anni prima dell'inaugurazione, e così, un'operazione che i politici non volevano rischiare, secondo me, quindi hanno nominato un tecnico. Io ho detto, beh, molto volentieri, abbiamo avuto un grande successo, è un, diciamo, il museo di scienze più visitato in Italia, abbiamo oltre 500.000 visitatori l'anno, e lì ci sono tante cose, in particolare c'è, e andremo a parlarne tra un po', un Fab Lab, un Fabrication Laboratory, e che ve lo vi racconto tra un pochino, probabilmente già sapete cos'è, ma io ovviamente mi ci sono appassionato moltissimo, e ho detto, ma le mie competenze di geometria vediamo come riesco a tradurle. Allora, io ci farò anche poi vedere qualche oggetto che ho costruito. Vi dico subito che grazie alle mie conoscenze geometriche, diciamo, io ero professore di geometria, quindi indiscutibile, e grazie al supporto dei tecnici del Fab Lab, del Muse, diciamo, io ordinavo le cose e me le facevano loro, quindi se a volte vi dico, ho fatto questo, ho fatto questo, fateci un po' la tara, nel senso che avevo i tecnici che mi aiutavano, però non è difficile, ecco, almeno, diciamo, qualche volta brontolavano, ma in generale, per esempio, vedete, prima di partire, questa, sulla copertina del libro, che ritorna, è una bottiglia di Klein, di cui oggi non parlerò molto, ma, allora sono andato, è una superficie che non ha interno e esterno, allora, prima di partire, due giorni prima, ho scaricato da internet il file, sono andato dai tecnici, ho detto, stampatemi un po' di bottiglie di Klein, le vedete qui, le ho stampate con la stampante 3D, poi ne le vedremo, se voi mi dite come si fa, si scarica da internet il file, oppure se lo fa con matematica, diciamo, con uno, e poi si inserisce la pennetta col file nella stampante, e si stampa, non è proprio proprio così, nel senso che i tecnici tutte le volte dicono, ma dobbiamo fare delle modifiche, ma insomma, più o meno. Bene, allora, vorrei raccontarvi come si costruiscono gli oggetti matematici, e allora, per farlo, parto da un po' della teoria, e vedete, diciamo, c'è tutto questo problema, che racconto bene nel libro, e ieri la mia conferenza è iniziata molto, siccome Festival Scienza e Filosofia, parto da un filosofo, parto da Platone, e voi sapete che Platone è un filosofo che parla tantissimo del mondo delle idee, e c'è questo atteggiamento platonico nel confronto del, platonistico nel confronto del reale, il mondo delle idee, idee in greco significa schema o forma geometrica, quindi il mondo delle forme, la geometria, le idee, è quello da cui, non so se si vede, questo tirato giù da internet, il mito della caverna, queste idee primordiali, che poi, diciamo, l'immagine attraverso il fuoco di queste idee, danno vita alla realtà, questo è un mondo delle idee astratto. Ecco, ovviamente Platone è importante per uno che fa geometria, lo metteva, sapete che aveva scritto su, si dice che avesse scritto sul frontone dell'accademia, chi non sa la geometria non entri, adesso non è che tutti devono studiare la geometria, però un pochino qualcosina di geometria bisogna sapere, perché, insomma, vuol dire se uno si vuole un po' muovere. Ecco, allora, da un lato c'è questa figura delle idee e dall'altra mi piaceva farvi vedere, l'ho fatta vedere anche ieri, e è stata una scoperta, Federico Enrico, è un grandissimo matematico italiano dell'inizio del Novecento, importante anche per il mio lavoro di ricerca in geometria algebrica, il fondatore della geometria algebrica moderna, del Teore della Superfici, è un personaggio di grande spessore e un ebreo, e quindi fu allontanato 80 anni fa dall'università per questo vergogno delle regi razziali, e cercando, scrivendo questo libro, sono andato a vedere due pezzi molto interessanti che vi suggerisco, e solo questo, secondo me, varebbe la pena, prendete l'enciclopedia Treccani, l'enciclopedia nazionale, e cercate la voce curve e la voce superfici sono state redatte da Enriquez, e sono bellissime, un po' troppo difficili forse, perché, diciamo, ci sono... E nella voce curve scrive questa cosa qui, vediamo, diciamo, se vi convinco, che è una bella frase, e lui, diciamo, tratta il concetto di retta, di curva, e poi a un certo punto dice, in un'ultima analisi, quando tentiamo di derivare dall'esperienza fisica, i postulati della linea, della retta, quindi attenzione, i concetti matematici vengono dall'esperienza, dice lui, no? Quindi, insomma, non è proprio Platone il mondo delle idee, che è un po' viceversa, quindi, io concordo, non so, a volte sono platonista, a volte sono più sperimentale, dobbiamo tener conto, non tanto dei fatti dell'esperienza stessa, quanto delle esigenze semplificatrici della nostra mente, che in esse si rispecchiano. Io trovo questa frase veramente molto bella, e cioè, vedete, l'uomo, rispetto agli altri animali, ha una mente che per capire il reale, cerca di semplificarlo, e questo secondo me è fare geometria, lo ripeto sempre, spero di non essere, se c'è una bella notte, e uscite con, con una ragazza, o con un ragazzo, dipende, e c'è una luna bellissima, forse no, però a un certo punto, a me succede, purtroppo sono geometrico, guarda che bel cerchio, non lo dico magari alla ragazza, perché dico, la poesia, però, insomma, oppure quando guardo una ruota, una macchina, dico, guarda un cerchio, se butto un sasso nello stagno, si formano delle onde circolari, allora, vedete, l'esigenza semplificatrice della mia mente, mi fa portare all'idea di cerchio, no, cioè, io vedo la luna, dico, non so se tutti gli animali pensano in questo modo, cioè, a un certo punto, nasce l'idea di cerchio, la retta, se guardo il binario di un treno, guarda questa è una retta, cioè, nasce dall'esperienza, ma nasce anche da un tentativo di semplificare, a un certo punto, cioè, di comprendere la complessità del reale in pochi passi, ovviamente, semplificare non vuol dire che sia poi facile, la geometria poi può diventare molto difficile, diciamo, può, perché si allarga sempre di più, però, non so se mi sono spiegato, insomma, cioè, da un lato Platone, le idee che sono le fondamenti, dall'altro queste osservazioni, che dico, guardate, comunque le idee vengono dall'esperienza, vengono dall'esperienza e vengono, nascono nella nostra mente come tentativo di semplificare la complessità del reale, mi piace molto questa cosa, ed è un po' quello che ha animato un po' la scrittura di questo libro, quest'idea di cercare di provare a far vedere come la geometria è un tentativo di semplificare nella nostra mente. Bene, detto questo, io voglio parlare di idee matematiche, di idee della geometria, e vedete, la grande cosa dei greci è che a un certo punto loro hanno scritto queste idee, per la prima volta, cioè il grande passaggio, ho letto, dicono i filosofi, dall'epos al logos, dalla tradizione orale alla tradizione scritta, il primo si dice che scrive è Omero, che scrive, diciamo, prima era tutto raccontato, ecco, anche qui avviene la stessa cosa, prima c'è Talete, ci sono tutti i pressocratici che raccontano, a un certo punto si siedono e cominciano a scrivere, e si comincia a scrivere in letteratura, in Omero, dall'altra, diciamo, abbiamo, questo è un antico papiro dove c'è gli elementi di Euclide, dell'altro, Euclide, che scrive per la prima volta, che cos'è una retta? Ho riuscito a leggere tutti, anche in fondo, io spero, beh, il punto uno è fantastico per me, comincia così, un punto è ciò che non ha parti, fantastico, qui c'è tutto, secondo me, il modo di ragionare della nostra filosofia occidentale, cioè, si scompongono le cose in fattori più secchi, semplici, fino a che a un certo punto non si può andare oltre, no? Cioè, il punto è ciò che non ha, quindi il punto non lo discutiamo, si comincia, bella, no? È ciò che non ha parti, che è un po' quello che dicono i fisici, il Big Bang, o il parcelli alimentari, oppure, diciamo, l'universo com'è? C'è un Big Bang e poi si crea tutto, no? Ecco, poi guardate quelli in rosso, una linea è una lunghezza senza larghezza, una linea retta è quella che giace ugualmente rispetto ai suoi punti, e poi ci sono due postulati, tracciare una retta da un punto ad un altro, si può fare una retta, prolungare senza soluzione di continuità una retta limitata in una retta. Questi quattro rossi, quelli blu raccontano cos'è, un cerchio invece, un cerchio è una figura, concentriamoci sulla definizione di retta, quattro postulati, poi sapete che c'è un quinto che non sapete. Ecco, questi quattro postulati sono stati scritti da Euclide e sono uguali. Oggi, ho preso un libro Geometry for the Classroom di Clemens, un bellissimo libro, se vi interessa, americano, un collega che ha scritto questo libro insieme al figlio, e vedete, una retta è un oggetto che si estende all'infinito in due direzioni, dati due punti distinti, esiste una, una sola retta per i due punti, dati due punti su una retta il cammino è più breve per andare da un punto all'altro adatto alla retta stessa, se togliamo un punto e una retta rimangono due pezzi separati. Allora, questo è un modo diverso di scriverli quattro punti, se ci pensate, è un po', una linea è lunghezza senza larghezza, questo è scritto nel 4, se togliamo un punto e una retta rimangono due pezzi. Ecco, vi faccio vedere un esempio, vi faccio vedere un esempio, cioè, sopra è una retta, vedete, la seconda non è una retta perché inizia da qualche parte, inizia da qualche parte, questa non è una retta perché non giace in maniera uguale, cioè, se io voglio andare da qui a qui, il cammino più breve non è stare sulla retta, ma tirare una retta, quindi non già, questa invece, vedete, è a larghezza, ok? Bene, io non so come dirlo, ma secondo me questo è proprio un pezzo di bravura, cioè, Euclido a un certo punto ha scritto ed allora tutti, noi concordiamo che questa, qualunque libro delle scuole trovate, le definizioni di retta è questo, si comincia col punto che non è una parte e poi è una retta, poi ci sono anche modi diversi di verlo come traiettorie, insomma, comunque questo è un modo per dire senza imbarazzo, senza contraddizione che cos'è una retta, è un pezzo molto carino. Quello che vorrei oggi discutere è il postulato 1, tracciare da una retta da un punto a un altro punto, come nel 3 descrivere un cerchio con dati centro e raggio, allora Euclido a un certo punto li mette come postulati, si rende conto che a un certo punto cioè, diciamo, non so, si racconta, vedete, Raffaello scrive che i grechi, questo dovrebbe essere Euclide o Archimede, non so, è nella scuola di Atene, un famoso affresco, e vedete, sta tracciando una circonferenza con un compasso, l'ho fatto vedere, ne parlavo con un professore, una professoressa di storia della scienza che mi ha detto ah, non è vero che i compassi non li hanno inventati i greci, li hanno inventati gli arabi molto dopo, boh, io ci credo a Raffaello, lui lo sapeva, e lo do per buono, comunque, se non hai proprio un compasso di quelli che usiamo, non c'è dubbio che i greci sapessero, prendevano un filo, bloccavano un punto e poi ci mettevano la penna dalle parti e facevano il cerchio, cerchio non è, allora vedete, si racconta che Giotto avesse stupito, non so se ancora, quando io ero studente si diceva che Giotto ci poteva fare un cerchio e Giotto l'ha fatto in maniera, l'ho trovato da YouTube, vediamo se funziona, ve lo faccio vedere, questo, e qui su YouTube ho capito come ha fatto Giotto. molto più difficile fare una retta, come si traccia una retta, uno dice, ah beh, prendo una stecca, ma chi è che ha fatto la stecca? C'è qualcuno deve iniziare, no? A fare, fare un meccanismo, un compasso che disegni rette è molto difficile. Il primo, che uno di quelli che ci prova, vediamo se ho il testo, è James Watt, che è quello che ha fatto la macchina a vapore e nello stesso brevetto, nello stesso brevetto della macchina a vapore, lui inserisce anche questo meccanismo, vediamo se funziona, un meccanismo articolato che traccia quasi una retta e lui dice una frase molto bella, vediamo se la trovo, ho intravisto il modo di far muovere un pistone su e giù perpendicolarmente solo fissandolo a un pezzo di ferro sulla trave senza catene o guide perpendicolari, è uno dei più geniali e semplici congeni meccanici che io abbia inventato, ha inventato il motore a scoppio, insomma, quindi diciamo, dire che lui era, in realtà non si fa, vedete, non è una retta, è quasi però una retta, questo è il disegno originale di Watt che è inserito nel brevetto, il brevetto ha alcune pagine, lo trovate su Wikipedia e lui propone questo su Wikipedia, trovate il meccanismo di Watt che disegna in realtà una lemniscata. Il primo, che costruisce un meccanismo articolato che fa una retta è Posselier, è un ufficiale francese che studia una trasformazione geometrica, un'inversione rispetto a un cerchio e vedete, vedete, lui, non so se capite come è il meccanismo articolato, ci sono sette barre di cui le quattro rosse vedete uguali e due verdi più lunghe e questi punti sono qui, la barra è fissa qui e si vincola a questo punto a percorrere una circonferenza mentre a questo punto percorre la circonferenza l'altro punto percorre una retta. Ok? È un meccanismo di Posselier e quando l'ho visto ho detto, sono andato ai tecnici del Fab Lab del Muso e gli ho detto se me ne costruite uno che lo porto a Foligno e me ne hanno costruito uno. Questo è il mio compasso per fare rette, vedete? andiamo diciamo insomma è solo per farvi vedere che c'è che si può farlo d'accordo? Lo vedete meglio qui insomma è una cosa un po' ridicola non è che uno si porta in giro un compasso però questo traccia direttamente vedete questo punto fa una circonferenza e in corrispondenza creiamo una retta d'accordo? È un problema molto complicato quello di costruire delle curve e allora adesso quindi costruire un cerchio è facile costruire disegnare una retta è stato un problema molto molto difficile aperto per un po' di anni è risolto solo nel 1900 nell'ottocento da bene fatemi fare un piccolo un altro piccolo punto storico prima e conoscete questo personaggio Cartesio che scrive questo grande libro la geometria come raccontano tanti diciamo e questo libro è la sua grande opera è introdotta da ha un'introduzione che si chiama discorso sul metodo che a volte si studia in filosofia e è l'introduzione della geometria e qui non so se si riesca a vedere vediamo se riesco a farlo più grande io qui ho scaricato da internet un pezzo della geometria in cui Cartesio scrive per la prima volta questo è un pezzo di storia della filosofia della scienza in cui dice per me una curva è diciamo un sceme di condizioni di punti nel piano descritti da una equazione ok cioè Cartesio è il primo che inventa il piano cartesiano no le assi cartesiani quindi ad ogni punto associano la coordinata x y non so se è il primo qualcuno dice che l'invenzione è di come si chiama che deriva dall'italiano che ha inventato gli spartiti musicali e diciamo che anche quello è un modo comunque insomma diciamo a un certo punto si sono inventati gli assi cartesiani Cartesio e Cartesio invece ha avuto questa idea per me è una curva è una cosa che lega la x e la y con un'equazione e quindi nasce l'equazione pensiamo che Cartesio viene poco dopo tutta la scuola italiana di geometria di algebra scusate i vari Tartaglia Cardano Scipione del Ferro poi Ruffini insomma più tardi e quindi l'algebra comincia a avere una sua consistenza e a Cartesio viene naturale definire una curva come il luogo di zeri di una funzione ci siete tutti c'è una funzione per esempio 3x più 5y meno 4 uguale a 0 una retta x quadro più y quadro uguale a 1 una circonferenza e quindi diciamo sentite qui vi faccio vedere solo la trovate su internet questa è una studentessa di laurea ha fatto una tesi magistrale a Trento la potete scaricare qui è bellissima perché fa tutto il libro di Cartesio con GeoGebra conoscete GeoGebra? lo conoscete tantissimo GeoGebra è fantastico perché è un programma che adesso poi è diventato cioè sotto ci inserite l'equazione e la disegna io per esempio ho scritto questa equazione x cubo più y cubo uguale 3 a x y oppure sotto l'equazione parametrica e ho disegnato il foglio di Cartesio sapete che Cartesio aveva sbagliato era convinto che il foglio ah qui c'è ci sono dei punti che mancano ma sono un po' male qui ma lui era convinto che avesse quattro fogli e l'aveva disegnato male poi fermasse se ne è accorto e gliel'ha detto i colori sapete che c'era questa quindi come dire Cartesio capisce che c'è un'equazione e poi però bisogna interpretarla questa equazione bisogna capire come è fatta come questa è una famosa curva lui sapete che dimostra che tutte le curve date da polinomio di grado 2 sono le coniche quindi inserisce tutta la geometria greca nella sua narrazione di curve e poi studia le curve di grado 3 eccetera insomma qualcosa e Cartesio quindi questo diciamo è molto carina perché prende le curve descritte da Cartesio e le fa con GeoGebra tra l'altro Cartesio si pone anche proprio lui il problema di costruire delle curve e Cartesio costruisce un sacco lui li chiama nuovi compassi per descrivere le curve nella tesi di Saragobi trovate perché GeoGebra si presta bene a rappresentare dei compassi a fare e quindi trovate un sacco di meccanismi che descrivono le curve bene quindi GeoGebra è fantastico potete buttarci dentro senza neanche capire insomma si butta dentro l'equazione e si vede cosa viene bene Cartesio fa tutto un discorso complicato sulle curve meccaniche e quelle non meccaniche e dice quelle meccaniche si possono costruire con un compasso quelle non meccaniche in realtà lui sta facendo una distinzione tra curve che sono date da polinomi come in questo caso oppure che sono date da funzioni trascendenti non polinomiali ci azzecca perfettamente perché alcuni anni dopo questo Kempe un teorema importantissimo dimostra che ogni curva algebrica algebrica significa che l'equazione è un polinomio ogni curva algebrica può essere costruita con un meccanismo articolato il teorema non è difficile è per induzione è abbastanza semplice l'ho visto nessuno me lo ricordo ma insomma lo trovate è spettacolare realizza davvero quello che pensava Cartesio quindi se voi date come polinomio un'equazione potete e qui vedete ci sono dei meccanismi perché qui nasce un problema diverso un problema che è molto attuale nell'ingegneria moderna dato un certo numero di piani nel punto c'è una curva algebrica che passa per questi punti e se c'è possiamo costruire un meccanismo articolato articolato che disegni la curva ecco vedete qui vedete qui ci sono andati dei punti nel piano e poi è costruita la curva e viene dato un meccanismo qui ce n'è un altro voi dite ma che cosa sta facendo questo signore che mi fa vedere delle curve strane questo era un problema importantissimo che la General Motto aveva posto perché il problema è come fare il tergicristallo migliore sapete adesso è affascinante certi tergicristalli sono particolari sono dei pantografi che si muovono dipende se la macchina è una macchina costosa ci sono pantografi e un collega anzi un professore si chiama Andrew Sommese da cui io sono stato negli Stati Uniti quando ero molto giovane imparare la geometria a un certo punto ha avuto una consulenza dalla General Motto ha preso un sacco di soldi per il dipartimento ha comprato un sacco di macchine per risolvere il problema c'è un problema vediamo se dati nove punti del piano si sa che esiste un meccanismo a quattro barre perché un tergicristallo è un meccanismo a quattro che disegna una curva passanti per questi punti il problema era di trovarlo il meccanismo e se i punti sono di più il problema non ha soluzioni ci vogliono più barre e date i punti trovare in un tempo ragionevole la curva al meccanismo ottimale in una ricerca sovvenzionata da General Motto per la idealizzazione di un tergicristallo ottimale nel 1992 Sommese dimostra che per ogni punti per ogni nove punti nel piano ci sono 1442 possibilità quindi un computer li calcola recentemente qualche anno fa hanno dimostrato che dati i nuovi punti nel più nel piano basta controllare 64 possibilità quindi è molto strano ma questo grande mondo dell'idea sta diventando un mondo molto concreto abbiamo dei punti dobbiamo trovare la curva data da un'equazione e dobbiamo trovare mi racconto di Mascheroni che è un italiano che è sempre sulla costruzione sapete costruzione con riga e compasso Mascheroni fa un grande teorema dimostrare che non serve la riga basta il compasso e infatti abbiamo visto insomma che con un compasso si riesce a costruire bene cosa voglio raccontare cosa voglio raccontare che ci sono diciamo delle curve nata la teoria della geometria analitica con Cartesio si cominciano a risolvere un sacco di problemi per esempio un problema ed è questo è la cicloide qual è il cammino più breve per andare da un punto a un altro una pallina soggetta solo alla forza di gravità che scende lungo una guida senza attrito trovare qual è il cammino più breve per andare da qui a qui allora il cammino più corto è sicuramente la retta ma il cammino più breve vedete dovete partire con velocità e poi scendere e partire con una buona accelerazione con una buona accelerazione vi dà molta velocità all'inizio e poi andate di riserva arrivate in fondo questo è un problema che aveva studiato Galileo e Galileo aveva risolto bene dicendo che la circonferenza è meglio della retta però non aveva trovato la curva migliore la curva migliore la trova Bernulli e Newton e Leibniz e si chiama cicloide ed è una curva che viene che si genera prendendo un cerchio facendolo ruotare lungo un piano e prendendo un punto e che si muove che disegna la curva non so se l'avete mai visto pensate al pedale di una bicicletta metteteci un punto luminoso e mentre voi state pedalando quindi vi muovete trasversalmente e il pedale disegna no non è l'equazione è un'equazione trascendente e il povero Galileo non poteva arrivarci perché vabbè non aveva neanche le equazioni Galileo perché è poco dopo che li descrive Cartesio è divertentissimo nello scrivere il libro ho notato queste cose Galileo è il primo che introduce la matematica nella nella comprensione della natura però lui stesso dice scrive questo dialogo sopra le nuove scienze fa delle cose stupende però si accorge di non avere abbastanza matematica e Cartesio che viene poco dopo che ha una stima enorme di Galileo Cartesio ha stima di pochissimi però Galileo lo reputo una persona intelligente però dice è un po' confuso è un po' è un pasticcione italiano si dicono così non i francesi però introduce questa perché perché faccio vedere questo perché allora questo è un grosso ci vorrebbe una conferenza intera per parlare della cicloide che è una curva barachistocrona comunque uno lo può cercare la può con GeoGebra costruire facilmente il percorso cicloidale si scrive l'equazione con GeoGebra va in un Fab Lab per esempio quello del Muse prende una taglierina laser e costruisce e se la fa tagliare sul sul compensato e costruisce una cicloide con la taglierina laser e vediamo se riesco a farvi l'esperimento diciamo adesso sono un po' più teorico io che un quindi vediamo se in riesce allora diciamo qui dietro c'è la cicloide qui ho messo una retta e se io vado a verificare metto due palline voi non vedete voi siete troppo lontani ma arriva giù per prima arriva molto prima questa lungo la cicloide e quindi è caduta sapete che la cicloide ha un altro bellissimo proprietà che è anche una tautocrona quindi se parto a qualunque altezza arrivo alla base dello stesso tempo se parto da qua o parto da qua arrivo in e questo si vede mettendo una pallina un po' più alta o una un po' più bassa le faccio cadere e tac si incontrano dunque arrivo sul pendolo e spiego grazie allora però volevo farvelo vedere di nuovo se io parto da alto e questo parto arriva giù prima arriva giù prima questa sembrerebbe che è più vicina e invece arrivano assieme arrivano assieme e si battono allora Huygens cercava l'autocrona perché voleva un pendolo che si muovesse lungo una linea tautocrona per cui l'ampiezza diciamo il tempo di non dipendeva da dove partì allora lui ha trovato che la curva perfetta è la cicloide di nuovo la stessa curva e poi ha una proprietà particolarissima questa cicloide che è evoluta di se stesso sapete cos'è un'evoluta? prendete una curva qualunque ci arrotolate intorno una corda e la srotolate la curva questa si chiama evoluta della curva allora se voi prendete una cicloide e svolgete una curva percorre ancora una cicloide insomma un sacco di cose complicate e Huygens ha costruito il pendolo perfetto in quegli anni tutti si allora cosa voglio dire vi sto raccontando un sacco di cose di geometria complicate quello che voglio dire è che qui sotto c'è un sacco di geometria c'è Galileo c'è Huygens c'è Bernulli c'è Newton oggi io con GeoGebra posso costruire la Vapistocrona subito posso andare in un laboratorio fab lab e costruirla quindi dall'idea alla creazione ed è veramente come vi ho detto un po' sto millantando nel senso che io poi porto il file GeoGebra e dico mi tagli nel compensato o nella pietra anche o nel mi fai poi non l'ho realizzato io perché sono un po' un pasticione me l'hanno fatta me l'hanno fatta i tecnici però insomma mi hanno detto guardi è facilissimo insomma si mette sotto e quindi per esempio un'altra delle cose che ho fatto il professore l'ha notato era il tema di maturità dello scorso anno chiedeva chiedeva una bicicletta con le ruote quadrate una bicicletta con le ruote quadrate non può muoversi sul piano deve muoversi su una curva speciale questa è una catenaria se prendete la catenaria vedete che la la ruota tiene sempre il mozzo fisso alla stessa altezza quindi io posso posso pedalare con una ruota quadrata purché il pavimento sia fatto da catenaria allora di nuovo ho risolto il problema di maturità con GeoGebra ho costruito la curva non è difficile la prova di maturità l'ho rifatto con GeoGebra ho costruito la curva vedete quella verde quando l'ho fatta sono andato dai miei tecnici ho detto me la costruite e me l'hanno fatta e ho detto oddio di nuovo è arrivato il professore di geometria che ci rompe con queste cose perché questi fab lab abbiamo due persone che lavorano a tempo pieno in questi fab lab e vengono utilizzati dalle industrie o dagli attigiani del 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 nostro territorio per creare dei prototipi che loro vogliono diciamo sperimentare e il fab lab del muse si paga con le consulenze e dice scusatemi se sono così ma dal presidente ho dovuto imparare anche queste cose era un professore di matematica ma poi insomma ho dovuto far tornare i bilanci e devo dire che su questo come muse siamo un successone teniamo su un sacco di con i biglietti e con cose diciamo siamo un museo che funziona molto 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 bene e questo fab lab è un è un luogo di produzione di idee molto molto utilizzato ogni tanto siccome vado giù e mi faccio fare queste cose che poi diciamo oppure queste cose qui vengono usate tantissimo dalle scuole del Trentino che vengono adesso ogni scuola che viene se passate anche voi diciamo costruite una cicloide e i professori poi la portano la portano in classe e fanno delle lezioni sulle cicloide queste cose qui fanno vedere la proprietà tautofrona o di questo tipo bene quindi questa è una delle proprietà del fab lab quello di l'altro ieri ho dato una tesi a una ragazza sapete cos'è il giro della morte si chiama clotoide è una curva la cui curvatura aumenta con la distanza cioè se voi arrivate vedete il giro vedete l'ottovolante se arrivate lungo una retta e poi cominciate a curvare se la retta si attaccasse immediatamente a una circonferenza avreste un'accelerazione centripeta prendereste una botta quindi ci vuole diciamo una specie di congiunzione allora ci vuole una curva che comincia retta e poi più si va avanti più si curva d'accordo? quindi una curva la cui curvatura dipende allora ho dato la tesi ho provato abbiamo trovato cioè è noto ma è un bel esercizio di matematica a trovare qual è questa curva si chiama clotoide e poi l'abbiamo trovata scritta l'equazione poi sono andato al museo ho detto stampatemi la clotoide l'abbiamo stampata e abbiamo fatto la prova abbiamo fatto vedere che effettivamente funziona è una curva non abbiamo scoperto nulla perché quelli che fanno gli ottovolanti lo sanno da un bel po' e abbiamo costruito un laboratorio di curve matematiche come vi dicevo se le scuole che vengono qui sono gli epicicli sono come si chiama come si chiama questo oggetto che fa le curve sì sono epicicli e spirografo mi pare quel gioco e li abbiamo costruito però con rapporti matematici precisi insomma facciamo vedere è molto divertente insomma c'è un sacco di didattica che è quella che io diciamo con la quale mi diverto di più però vi ripeto ci sono tante tante idee che vengono poi utilizzate dagli artigiani o dall'industria per fare dei prototipi sotto c'è della geometria sotto ci sono le idee di Platone che trovano realizzazione qui per esempio costruiamo dei solidi platonici con la taglierina ovviamente facciamo dei vasi di fiori vedete e un sacco di altre cose bene questo è il mondo delle curve poi c'è il mondo delle superfici anche qui voi avete detto tutti che conoscete GeoGebra GeoGebra può fare anche le curve può fare anche le superfici c'è la modalità 3D però io vi suggerisco questo programma non so se lo conoscete si chiama Surfer e lo trovate su questo sito imaginary.org che è un sito della matematica tedesca della società matematica tedesca è un sito che si pone l'obiettivo di raccogliere tutte delle idee programmi exhibit per fare una mostra di matematica chiunque abbia un'idea può postare la sua idea lì e realizzare oppure può scaricare quelle del vuto degli altri è fatto molto molto bene in particolare potete scaricare gratuitamente questo programma che è fantastico è un programma come si dice user friendly più semplice ancora di GeoGebra ed è cioè ci mette sotto l'equazione di una superficie un'equazione di superficie deve avere tre incognite x y z quindi non so x quadro più y quadro più z quadro uguale a uno è la sfera ok oppure potete calcolare l'iperboloide iperbolico il paraboloide iperbolico questo è superficie di secondo grado e le potete costruire di tantissimi ed è veramente molto bello tra l'altro c'ha i parametri a tre parametri a b c che potete spostare quindi potete questa è la patatina pringle no potete farla come volete potete costruire cose anche diciamo un cuore che batte col vostro col parametro romantica ecco voglio dire ma una volta che avete fatto un cuore così lo potete muovere potete metterlo sulla pennetta andare al fab lab e dire me ne stampi uno per la mia fidanzata un bel cuore rosso che e lo stampa e funziona impressionante ripeto sto un po' millantando nel senso che io vado dai tecnici me lo stampate loro tutte le volte dicono è arrivato va bene glielo stampiamo però e me lo stampa il cuore non l'ho mai stampato però le conoscete qualcuno di voi l'ha già vista le stampanti 3D e vedete qui ci sono delle per esempio eccoli qua questa è una superficie del superficie del Dini è una superficie a curvatura costante meno uno che l'ha inventata Beltrami è un modello di geometria iperbolica è una superficie fondamentale costruita da Beltrami alla fine dell'ottocento studiando Riemann ed è diciamo il primo modello di geometria iperbolica che poi ho scoperto scrivendo il libro diciamo che ci sono questi modelli di Klein e Poincaré che sono esattamente copiati dell'articolo di Beltrami degli anni 60 sì diciamo Riemann introduce le geometrie rimaniana e dà una metrica per le superfici Riemann sapeva tutto probabilmente questo diciamo era Riemann però il primo che usa queste cose per fare dei modelli bidimensionali è Beltrami il quale torna va a una conferenza non so se conosce proprio Riemann o se sente parlare assiste assiste a delle lezioni di Riemann a Gottinga e torna e fa questo modello bellissimo che poi ha dei problemi perché lo presenta a una rivista l'accademia è tremenda aveva un maestro che si chiamava Cremona e scrive questo articolo Cremona non lo capisce subito dice boh sì secondo me non è vero e lo tiene nel cassetto per un anno e poi glielo fa riscrivere poi lo riscrive e lo scrive meglio e viene pubblicato va bene di nuovo perché mi sto avventurando su questo che è fuori del tema per dirvi che oggi io prendo la superficie di Beltrami la scrivo con Surfer o con un altro programma poi vado e me la stampo per me è stata una cosa abbastanza sorprendente solo da alcuni anni insomma che vedo degli oggetti geometrici che studio questa per esempio è la sestica di Barth è una superficie di grado 6 col massimo numero di singolarità possibile per una superficie di grado 6 una superficie di grado 1 è un piano e non ha singolarità un piano una superficie di grado 2 può avere delle singolarità al cono quadrico il cono ne può avere solo una una superficie di grado 3 e Kummer il primo si chiama Kummer un tedesco che ha trovato la cubica di Kummer che ha 6 singolarità mi pare Togliatti il fratello di Togliatti costruisce la quintica col massimo numero di singolarità eccetera eccetera Barth è un matematico ancora vivente ha costruito la sestica col maggior numero di singolarità un mio collega di Trento Roberto Pignatelli ha dimostrato che questo è il record e bene c'è questa equazione io ho detto why not stampiamola questa sono diventati matti i miei tecnici perché io gli ho portato l'equazione ho detto ragazzi ve la stampate e potete immaginare se avete mai visto una stampante 3D va per layer successivi e quindi diciamo se la stampassero così cadrebbe dopo un po' quindi cosa hanno fatto me l'hanno tagliata a metà il file l'hanno stampata una metà una metà e poi l'hanno incollata allora quando mi hanno spiegato questa cosa ho detto ma è come benvenuto Cellini siete cioè fare i stampatori 3D oggi bisogna essere degli artisti e intuire quindi ci vuole un po' di geometria e un po' e di nuovo questo è l'oggetto che ho stampato al Muse questo invece che è un po' più bello l'ho comperato da questo sito c'è questo collega matematico geometra algebrica che si è dato oramai Oliver Lab trovate la conferenza la potete trovare sulla mia pagina web e potete cercare e qui diciamo questi oggetti qui costano una decina di euro mi pare ne ho ordinato e Oliver li fa proprio come su Amazon si ordina e guardate si ordina delle cose incredibili perché vedete questa allora ve la faccio vedere in successione quella sulla sinistra è una superficie tutte le superfici cubiche sono le cubiche di Kummer quelle con il massimo numero di singolarità questa sulla sinistra è al Museo di Scienze di Milano la costruita a Campedelli all'inizio del novecento e quindi con legno o col gesso ci sono e lavori lunghissimi insomma di geometri che costruivano queste adesso con la stampante 3D si fa in un attimo questa la comprate sul sito di Oliver Lab e questo Oliver Lab da un po' si è messo a fare dei gioielli anche e fa dei gioiellini potete regalare alla vostra fidanzata devo dire che io ho ancora da comprarlo ma tra un po' lo regalo a mia moglie non so se gradirà provo a spiegarmi di nuovo io la cubica di Kelly la so costruire la formula ce l'ho ok poi la porto al laboratorio e ho detto ragazzi mi stampate la cubica e mi dicono si prof no diciamo ci sono dei file ma probabilmente qui c'è qualcuno anche più esperto di me se tu hai una stampante 3D la stampante ha dentro dei programmi che adattano il file al tipo di stampante perché non sono tu è un po' come quando c'erano le stampanti laser all'inizio che non si il post script esatto esatto allora il file deve essere .ststyle .style quando stampate una cosa dovete avere .pdf per esempio adesso se il vostro programma salva in .st y allora poi lo potete stampare però lasciatemi millantare un po' ecco però ci si riesce con la collaborazione di tutte probabilmente se io passassi qualche giorno a studiare queste cose forse ce la farei anch'io ecco però avendo essendo esatto esatto per esempio se usate il programma matematica o maple quello trasforma subito in vettoriale perché il problema dal punto di vista del programma è un po' delicato perché uno dà l'equazione ed è una cosa lunghezza e larghezza senza spessore e invece il programma deve un po' in spessore perché questo in realtà è un solido quindi deve dargli un po' di spessore cioè deve devi sì 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 però sapete una stampante 3D la potete comprare tranquillamente con 1000 euro adesso la prima che abbiamo comprato al Muse cinque anni fa adesso costa meno di 1000 euro e poi il materiale per fare una decina di queste bottigliette ho speso due euro o qualcosina costa insomma però vedete si può fare vedete ho dato una tesi a un certo punto anche un'altra cosa molto divertente la cupola del Brunelleschi di nuovo potrei parlarvene un sacco di idee questa è la cupola in muratura più alta del mondo in mattoni diciamo tuttora il record e Brunelleschi l'ha fatta con la tecnica del sesto di quinto acuto non sono un architetto non sono un muratore diciamo ha preso la distanza la divisa in cinque e poi del quarto di quinto acuto scusate è una tecnica edile nota a Brunelleschi e l'hanno fatta così più tardi Huygens si accorge che con questa tecnica si costruisce la catenaria che è la curva se voi volete fare la cupola migliore se voi prendete un filo e lo appendete da due parti avete una catena come si la natura si dispone allora se questo è il migliore come sulla forza peso sarà anche il migliore a sorreggere diciamo e quindi è una catenaria se ne accorge Huygens allora ovviamente io ho preso una ragazza ho detto senti prendiamo la cupola di Brunelleschi prendiamo la catenaria la facciamo e stampami una di nuovo è una ragazza di tesi sapete noi professori facciamo così tu fammi la tesi lei ha scaricato l'equazione l'ha presa e me l'ha stampata ho la cupola di Brunelleschi adesso sapete che ci sono stampanti molto grandi che fanno anche i tetti sto già montandomi la testa e sto pensando di farmi il tetto di casa sarebbe da ridere a Trento avere la cupola di Brunelleschi no dice che ci vuole lo faccio in resina dovrebbe tenere l'acqua ci sono delle case che vengono fatte allora di nuovo mi sto divertendo ma comunque questa è un'idea geniale la cupola del Brunelleschi e oggi si riesce a fare facilmente la bottiglia di Klein avete visto le Pringles le conoscete quindi sono aspetti perché io faccio sempre confusione con i nomi il paraboloide iperbolico siccome le stampanti 3D fanno anche stampano in metalli preziosi come argento o oro ma stampano anche materiali di tipo che si possono mangiare questi oggetti li si può fare in cioccolata per esempio che è una tentazione fantastica di fare la superficie del Dini cioccolata bianca e poi mangiarsela con un po' di crema ecco sapete che c'è stato un concorso dalla Barilla per costruire la pasta migliore un nuovo tipo di pasta e c'è questo libro Pasta by Design fatta da da un architetto e da e da una italiana che è curatrice al MoMA di New York e hanno classificato tutta la pasta con le equazioni e quindi ogni tipo di pasta sono 99 tipi di pasta i fusilli con l'equazione col tipo di sugo eccetera e quello che io volevo fare esatto io vorrei fare una pasta per l'ho proposta a Felicetti che è un industriale che fa pasta in Trentino e mi ha detto si è un po' un problema perché la pasta si fa per estrusione no? cioè per fare un tipo di pasta si fa come si chiama un profilo e dopo viene spinta dentro vengono fuori gli spaghetti o i maccheroni eccetera trovare un modo per fare per estrusione questa cioè l'idea qui fare spaghetto per spaghetto con la stampante 3D sarebbe abbastanza costoso insomma però ecco il modello c'è secondo me verrebbe una pasta squisita ecco presso di aver finito il mio tempo diciamo qui un'altra cosa che abbiamo fatto che abbiamo copiato dal Momat di New York queste vedete sono delle superfici rigate che sono al museo di Milano e questa è una cosa che Henry Moore aveva trovato al British Museum era rimasto impressionato da queste superfici Henry Moore e le ha portate anche nell'arte questo è Gabo un altro che fa diciamo queste superfici rigate e adesso con la stampante 3D al Momat di New York realizzano dei profilati particolari delle string insomma si possono organizzare di nuovo qui l'arte al servizio della geometria al servizio dell'arte vengono delle cose molto molto belle potete scrivere vi mandano queste cose abbiamo provato a farne alcune e poi c'è il problema di raffigurare di costruire oggetti in dimensione alta invece qui diciamo rimaniamo solo nel campo del digitale e costruire questo è un ipercubo vedete abbiamo fatto qualche anno fa una mostra al Muse dove appunto io lì ho lavorato anche come curatore in cui abbiamo provato a raffigurare e a costruire solidi in dimensione più alta ma abbiamo usato anche qui un po' la stampante 3D ma sono immaginazioni sono delle cose molto molto carine ma diciamo va bene credo di l'ipercubo? questo? 120 celle no aspetti i poliedri regolari i solidi platonici li conosce diciamo sono come dire sono 5 è la grande risultato di Platone che dice del timeo che dice che c'è il tetraedro il cubo l'ottaedro l'icosaedro eccetera una cosa analoga in dimensione superiore in dimensione 4 quali sono i solidi regolari in dimensione 4 per esempio l'ipercubo questo è un ipercubo non so se si riesce a vedere lo vede? diciamo un ipercubo è fatto da 8 cubi diciamo come il cubo è fatto da 6 quadrati messi assieme l'ipercubo le deve pensare siamo nella quarta dimensione prendiamo 8 cubi e li inceneriamo in una dimensione e questa è una specie di proiezione dell'ipercubo in dimensione 4 allora ci sono dei solidi c'è un solido regolare che è fatto da dodecaedri 120 dodecaedri che si incollano a formare in dimensione 4 senta vuole che le faccia vedere una cosa bellissima fatta da Gianmarco tedesco vediamo se mi funziona però non ho il collegamento non riesco a farla credo nessuna connessione io qui ho niente dovrei avere però non ho la password qualcuno ha la password ha la password del cos'è stima 2018 sì allora vediamo di nuovo allora vediamo costruiamo prima un pentagono ok mettiamo non so quanti pentagoni assieme e formiamo un dodecaedro lo vedete ah sono solo io che vedo oh scusate io sto guardando dunque aspetta come faccio a farlo vedere anche a voi chiudo questa vediamo io mi stavo divertendo vedete no vediamo se ce l'ho sotto eccolo qui allora partiamo dall'inizio metto schermo intero però vediamo se riesco a partire dall'inizio perché vabbè no è già arrivato in fondo ecco veniamo allora creo un pentagono adesso vedete poi attacco i pentagoni assieme e creo un dodecaedro ok e qui sono in dimensione 3 è un solito adesso prendo 120 dodecaedri e li attacco insieme assieme vediamo metta qui ancora dodecaedro eccolo e comincio ad attaccarli insieme però sono nella quarta dimensione quindi non so se si vede è un tentativo di visualizzare 120 in modo da chiuderli e creare un un solido regolare in dimensione 4 è uno dei sei solidi regolari in dimensione 4 ognuno poi ha la fantasia che riesce a fare questo era però il secondo video perché ne ha fatti due Gianmarco Tedesco e va bene io ho chiuso grazie mille per la vostra attenzione grazie mille Grazie a tutti.